Con la sottoscrizione del protocollo di intesa con la protezione civile è ufficiale la collaborazione delle associazioni di volontariato a supporto delle capitanerie di porto nell'operazione Mare Sicuro. Per il weekend di ferragosto saranno circa 200 in tutti i presidi dislocati nella provincia di Salerno i medici e i volontari dell'associazione Humanitas al lavoro per garantire sicurezza e prestare i primi soccorsi. Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 agosto due mezzi navali con equipaggio formato anche da medici pattuglieranno il litorale pronti ad intervenire in ogni situazione emergenziale. A questa attività si integrerà anche quanto già si fa per l'avvistamento incendi. Un'attenzione particolare sarà dedicata anche al potenziamento dei soccorsi nelle aree di maggiore traffico. Le ambulanze dell'Humanitas presidieranno gli ingressi autostradali per ridurre i tempi di eventuali interventi di soccorso. L'Humanitas non dimentica neanche gli animali ed un'ambulanza per il soccorso veterinario sarà disponibile H24 presso la sede di Salerno. A vigilare dall'alto ci penserà anche un elicottero che pattuglierà le aree costiere e quelle interne. E sono già diverse le preoccupazioni che animano il presidente del gruppo Roberto Schiavone soddisfatto per il reclutamento ufficiale ma nello stesso tempo certo che ci sarà tanto da fare. Finalmente quest'atto è stato definito, è arrivata oggi la convenzione, così c'è un rapporto di sinergia con le capitanerie di Porto, cosa che già facciamo, però voglio dire che adesso c'è un atto che ci convalida nel nostro operato a mare, sia per tutto quello che può servire di ausilio alle capitanerie di Porto, per il duro lavoro che ormai sono tenuti a fare, perché capite che a mare è diventata, sembra un'autostrada, c'è decine, centinaia di barche ma principalmente di gente che non sono idoni a poter effettuare questo tipo di navigazione perché sono persone che conoscono poco il mare. E poi un altro fenomeno che stiamo notando ultimamente è che i ragazzi fittano delle barche molto grandi e vedi 14-15 ragazzi che si portano dietro scatolone di bottiglie di birra e questo mi preoccupa molto, mi preoccupa perché queste persone poi a fine giornata non sono le condizioni che possono avere per poter poi effettuare il rientro in Porto. Noi come ogni anno, venerdì, sabato e domenica faremo un supporto maggiore in tutte le nostre attività, avremo ambulanze in tutte le caselle autostradali fino giù verso Sala Consilina, avremo mezzi in montagna per la salvaguardia degli incendi perché siamo ancora una regione fortunata, non so a che gioco stanno giocando perché qua questi signori ogni anno dopo Ferragosto iniziano anche da noi a ingendiare. e avremo un supporto anche con il nostro elicottero dall'altro che vi girerà sia sulle coste che su tutte le colline dell'Internand per visare immediatamente i focolai di ingendi, un qualche piromero che vediamo, qualcuno isolato che vediamo girare in montagna e subito segnalarlo ai carabinieri forestali. Grazie. 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 Grazie.